Contrai i muscoli intercostali, espandi il torace e dilata i polmoni. Ora appiattisci il diaframma e ripeti tutto per 16 volte al minuto. Hai appena respirato. Ogni giorno fai migliaia di volte un'operazione così complessa senza neanche accorgertene. Perché quando qualcosa funziona bene, viene naturale. Per questo la mia banca Fineco, ho un consulente personale per i miei investimenti, gli interessi sul contodeposito e i servizi di conto corrente, tutto a zero canone e con il supporto dei Fineco Center. Semplice, come respirare. Fineco, la banca che semplifica la banca.